Il mondo deve ricordare gli alberi, la funzione che loro svolgono. Con questo piccolo gesto che abbiamo fatto qui questa mattina nel parco del villaggio della Salute Più sta a significare l'attenzione con cui noi ci rapportiamo con la natura. Noi abbiamo un grande progetto che è Natura World, che è proprio basato sulla riconnessione degli uomini con la natura ed ogni azione che facciamo è improntata su questo tipo di filosofia. Per cui vogliamo continuare ad avere un rapporto con la natura, che sia un rapporto proficuo, che ci consenta di vivere in un ambiente sempre migliore. Questo è un melo che ha vinto nel 2013 un premio della Royal Horticultural Society di Londra. È un melo ornamentale, si chiama Malus Comtes de Paris. È molto interessante perché ha una fioritura estremamente affascinante in primavera. si ricopre di fiori bianchi e dopo fruttifica e fa queste meline gialle che rimangono, persistono sulla pianta per tutto l'inverno. Si possono usare anche per la preparazione di marmellate e gelatine. Ok?